Buon pomeriggio a tutti, una nuova puntata del Cartot Educational. Ciao a tutti da Andrea Cartotto. Qui siamo a 1883 metri, sempre in Trentino, provincia di Trento, Malga Cigolera, nella Val Cigolera. Siamo sotto l'Alpe Cigolera, zone bellissime. Alle mie spalle possiamo osservare anche qui la catena montuosa che comprende le famose pale di San Martino. Siamo sopra l'abitato di San Martino di Castrozza, ma la curiosità di oggi è come si arriva alla Malga Cigolera. E alla Cigolera si arriva attraverso un sentiero che si chiama Sentiero del Dau. Costituito da sette tape, ciascuna accompagnata da un cartello tematico, il Sentiero del Dau ci racconta di questo animale. Un animale, pensate, visto, pare, secondo alcune ricerche in rete, ancora nel Biellese, in Val Sessera nel 2010, ma in realtà tendenzialmente estinto. Pensate che la leggenda racconta anche come ci fosse una variante albina di questo Dau che ha un po' l'antenato dello stambecco, tanto per essere chiari. Come possiamo vedere ora dalle riprese dell'operatrice, in realtà abbiamo poi delle indicazioni che ci consentono di ritornare a valle verso l'abitato, ma soprattutto se osserviamo a destra e ora ruotiamo la telecamera e andiamo a sinistra dove il mio dito indica, ricordatevi e con questo vi saluto che se vi dicessero mai sei un asino, beh, vi stanno facendo un complimento perché l'asino oltre che un animale è molto tranquillo e usato da sempre per accompagnarci e per trasportare i fornimenti nelle zone più impervie. Alla prossima puntata del Cartotto Educational e un saluto sempre da Andrea Cartotto.